Rieccoci, bentornati, abbiamo rimesso le scarpe da ginnastica per raccontarvi quelle che sono le notizie più calde sportivamente parlando. Ce ne sono tantissime partendo però da Reggio Calabria e quindi delle questioni legate alla regina. La squadra prepara il prossimo match ma nel frattempo è stato rinviato al 10 gennaio il ricorso presentato dal club Maranto sui quattro punti di penalizzazione. Rinvio al 10 gennaio, questa è la decisione della Corte d'Appello federale in merito al ricorso presentato dalla regina contro i quattro punti di penalizzazione. Inflitte la squadra Maranto il 20 ottobre scorso per presunte irregolarità amministrative. Il presidente Foti, assistito dall'avvocato Panuccio, è riuscito anche ad ottenere un risultato positivo. L'organo federale, riunito a Sezioni Unite, ha disposto alla sospensione dell'inibizione nei confronti di Giuseppe Ranieri, all'epoca dei fatti amministratore unico, e ha chiesto alla società di via dell'industria di integrare il ricorso con la copia degli atti di recissione dei contratti dei calciatori della regina calcio della stagione 2013-2014. Archiviata per il momento la questione di penalizzazione, gli amaranto si sono ritrovati al centro sportivo Sant'Agata, agli ordini del tecnico Alberti, per riprendere la preparazione in vista della prossima sfida casalinga di sabato contro il Foggia. La consueta partitella contro la Berretti si è conclusa con il punteggio di 5-0. Il lavoro proseguirà con una seduta di allenamento tattico a porte chiuse, prima della rifinitura di venerdì ed il successivo ritiro prepartita. La regina, priva di rizzo squalificato e con insegna in diffida, è chiamata ad uno scatto d'orgoglio per tentare il riscatto nelle ultime due partite prima della sosta. Dopo il match contro i pugliesi, infatti, la squadra amaranto affronterà il derby contro il Catanzaro, in una trasferta che si preannuncia già molto impegnativa. Aspettando il derby c'è la Casertana, ma anche il Foggia sulla strada delle squadre calabresi di Lega Pro nella 17esima giornata. La prima, 5 giorni fa, battuto il Catanzaro ed ora punta il bis contro la Vigor Lamezia. La seconda, come avete sentito nel servizio, lancia il guanto di sfida alla regina. E' la squadra che solo 5 giorni fa ha messo KO il Catanzaro al Nicola Ceravolo. La Casertana punta al bis, ha stretto giro contro le calabresi ed è pronta a chiudere in trappola la Vigor Lamezia. La formazione di Alessandro Erra sarà ospite nella terra della reggia già sabato alle 14.30. Nessuna formazione di Calabria è riuscita a battere i campani, proverà a farlo la Vigor in una partita impossibile sulla carta, considerato l'andamento esterno del gruppo Lametino ed il ruolino di marcia interno dei Falchetti, uno dei migliori del torneo. Ha battuto la Casertana in casa il Foggia, prossimo avversario della regina. I pugliesi saranno di scena al granillo nel match in programma alle 15.00. Anche qui le statistiche non danno chance. 12 risultati utili di fila, miglior difesa del girone. Solo una sconfitta in campionato non lasciano scampo di interpretazioni. Il Foggia è una corazzata che paga solo un avvio di campionato sottotono. Alla regina del neotecnico Alberti non resta che puntare tutto sul fattore sorpresa. Si chiamano Paganese ed Aversa Normanne invece le prossime avversarie di Catanzaro. Ecco senza match in programma, non sabato ma domenica. Paganese e Catanzaro in campo domenica all'ora di pranzo. Uno scontro diretto in chiave play-off. Di difficile interpretazione la squadra azzurro stellata. Stesso rendimento casalingo e in trasferta per i campani. Reduci da due successi di fila contro la Vigor e la Versa Normanna. Compagine che proverà a strappare punti fondamentali in chiave salvezza al San Vito di Cosenza. Sfida in programma sempre domenica ma alle 14.30 è un'ottima chance per i lupi silani. Schiacciare gli avversari significherebbe uscire definitivamente dalla zona rossa della classifica. Attenzione però alla voglia di riscatto dei campani. Clamorosamente più in forma quando giocano lontano da casa dove hanno raccolto 5 dei 7 punti totalizzati in graduatoria generale. Quindi questi sono gli impegni delle calabresi inserite nella girone C di Lega Pro. Con l'aiuto della grafica andiamo a vedere il programma completo della 17 giornata di terza serie. Lo leggiamo insieme. Si parte già domani alle 20.45 con Messina Benevento. Sabato, Casertana Vigor Lamezia alle 14.30. Mezz'ora dopo, Regina Foggia. Barletta Salernitana alle 16. Leccia Martina Franca alle 17. alle 12.30. Di domenica Paganese versus Catanzaro alle 14.30. Cosenza a Versa Normanna ma anche Lupa Roma contro il Savoia. Matera e Dischi alle 16. E Juve Stabia contro il Melfi alle ore 18. A chiudere così il programma della 17.00 giornata di Lega Pro. Chiudiamo noi invece con le arti marziali. Domenica la Mezzia Terme. Atleti provenienti da tutta la regione. Si contenderanno il primo Grand Prix Calabria. Domenica 14 dicembre 2014 si svolgerà alla Mezzia Terme un grande evento di arti marziali. Il primo Grand Prix Calabria dove parteciperanno 10 discipline di arti marziali. dal karate con le forme e il combattimento e il Gran Premio giovanissimi. Lo sport integrato per i diversamente abili. Poi avremo il judo, il kung fu con le forme e il combattimento. Poi abbiamo il taekwondo con le forme e il combattimento. Il guarpedo, la kickbox, l'MMA, il grappling e l'autodifesa. Quindi abbiamo raggiunto veramente dei numeri strepitosi. Tra cui abbiamo dovuto chiudere l'iscrizione anche alle regioni limitrofi alla Calabria che volevano aderire a questo grande evento. Facciamo un invito a tutti i calabresi a partecipare anche come pubblico perché sarà un evento veramente unico in Calabria. È il primo in Calabria dove racchiude più discipline sportive di arti marziali. Bene così è davvero tutto. Non mi resta che ringraziarvi. A voi tutti un buon proseguimento. D'Alessio Buon Passo.